Latu Baradanicto. Il fumetto di cui voglio parlarvi oggi è devastante. Lo è nelle dimensioni, 760 pagine, e lo è perché non incontrerete mai come lettori tanta esibita violenza, tanto gratuito sangue e tanta compiaciuta merda senza soluzione di continuità. Prison Pit di Johnny Ryan è uscito negli Stati Uniti come serie tra il 2009 e il 2018 ed è stato pubblicato in Italia in un unico mattone giallo, questo è il colore della copertina, da Eris nell'Annus Pandemicus 2019, per ironia di cabala. Particolare menzione va al traduttore Valerio Stivè, perché in Prison Pit il protagonista, un ultraviolento guerriero wrestler intergalattico, mentre trita, massacra, squarta e distrugge i suoi mille mostruosissimi avversari, un cattivissimo unuco nazista o il devastante testa di scroto, per esempio, li apostrofa con ogni ributtante insulto, ben oltre politicamente scorretto e sempre a sfondo sessuale o coprofagico. L'impressione è di trovarsi innanzi alla polluzione continua di un preadolescente onanista e tossicodipendente di videogames, probabilmente criptomosessuale e sicuramente misogino. L'unica presenza femminile, un mostro metadonna e metapterodattilo, viene stuprata e uccisa dallo sceno protagonista, il quale ha, in sostituzione del proprio braccio sinistro, un gigantesco verme che provvede alle esigenze sessuali dell'eroe. Devastante, ho detto. Devastante ed inqualificabile. Ma Johnny Ryan non vuole soltanto scandalizzare ogni tipo di pubblico possibile. La sua azione controculturale ha più spessore di quanto si sospetti. Il suo disegno è volutamente brutto, infantile, apertamente ironico, e fugge ogni manierismo del segno underground di derivazione crambiana che congelerebbe l'underground nello spazio-tempo degli anni sessanta-settanta. Johnny consegna la narrazione alternativa direttamente alla contemporaneità, una contemporaneità senza scampo, che può essere raccontata soltanto attraverso una furiosa o scena danza autodistruttiva, come se la danza distruttiva di Shiva si trasformasse in pogo, un pogo orgiastico. Le ultime dieci pagine, infatti, sono l'ineluttabile esplosione dell'universo. E Amen.